Siamo qui con Cristina Mazzurana, Managing Director di Capital Group, alla quale vogliamo chiedere quali sono le prospettive per questo 2020 sui mercati finanziari. Grazie per la domanda, buongiorno. Non saremo particolarmente originali, immagino. Siamo cautamente ottimisti. Storicamente gli anni elettorali per quanto riguarda il mercato americano sono anni caratterizzati da una volatilità maggiore, soprattutto nella prima parte dell'anno. In parte lo stiamo vedendo oggi più che altro a causa del coronavirus, però le stesse dichiarazioni che possono rilasciare i candidati possono avere un impatto e muovere il mercato, ma generalmente sono anni che si concludono con un segno positivo per l'S&P. Le banche centrali dei paesi sviluppati restano con un mood accomodante e questo fa ovviamente ben sperare e pensare che ci sarà comunque un supporto da questo punto di vista sulle varie asset class. Siamo un po' meno ottimisti per quanto riguarda l'area del credito, parlando di fixed income. Abbiamo ridotto nei nostri portafogli per esempio la componente high yield e comunque siamo molto selettivi quando andiamo ad investire in quest'area e guardiamo invece con ottimismo il debito emergente. Quindi qualora si ricerchi un po' di rendimento, ovviamente aumentando la propensione al rischio, crediamo che nell'ambito del mondo emergente e delle valute locali si possa trovare qualcosa di interessante. Per quanto riguarda la valuta, brevemente, crediamo che il dollaro possa stabilizzarsi o eventualmente leggermente indebolirsi e questo andrebbe comunque a vantaggio delle valute locali. Quale potrebbe essere un consiglio da dare agli investitori? Noi tendiamo a ripeterci, negli anni tendiamo sempre a consigliare le stesse strategie perché pensiamo che l'investimento vada sempre fatto dando un occhio di riguardo a quelli che sono gli obiettivi del cliente per cui se un cliente avesse un obiettivo di crescita anche in un anno potenzialmente negativo, avere una quota di equity e di azionario importante resta comunque un elemento fondamentale. Però parlando più in generale, crediamo, visto i mercati azionari che hanno corso tanto, abbiamo detto siamo cautamente ottimisti, però sarebbe forse interessante poter aggiungere alla componente azionaria che è un fondo come il nostro Global Income Opportunities, che è un fondo al 100% obbligazionario, che investe nell'area dell'alto rendimento, quindi cedole alte, siano esse corporate, high yield piuttosto che debito emergente, lo fa in misura flessibile. È un fondo che ha 20 anni di storia, quindi ha vissuto vicende diverse, sempre con ottimi risultati, con grande consistenza di risultati. Riteniamo che un fondo, una strategia di questo tipo potrebbe andare a completare l'area di alto rischio, magari riducendone la volatilità complessiva, questa è almeno la storia del fondo, e dare comunque dei risultati importanti. Qualora quello stesso cliente avesse bisogno di un flusso cedolare, il fondo nello specifico è perfetto, perché negli ultimi dieci anni ha avuto un rendimento medio, uno yield medio del 7,7%. Lo yield to maturity è 6,7%, quindi resta una cedola estremamente interessante anche per i prossimi anni. Grazie mille. Grazie a voi.